Noi siamo andati a conoscenza tramite qualche telefonata da parte del genitore, ho chiamato la dirigente, i due dirigenti, siamo in difficoltà perché delle famiglie ci dice sì ma io stavo provvedendo a comunicare loro per iscritti e quindi la cosa è andata così. Fatto questo, sapete che c'è una coggiore particolare per ogni acquisto, le aziende devono essere iscritte alla consi, per quant'altro, servono i prezzi preventivi, il prezzo del carburante, tutto quanto, sarà giuro per la ditta di cosenza che chiaramente non viene subito a conoscenza. C'è bisogno del carburante, diciamo? Sì, 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 sì. È combustibile, non è il cattore? È combustibile, ce lo deve comunicare la scuola, quindi non è che siamo lì ogni giorno. Comunque, già ieri ho appena comunicato, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare e oggi abbiamo già individuato il dato, fatta la richiesta all'interno che si è giudicata dal prezzo più basso la fornitura, quindi penso domani dopo domani.